Avvocato, un commento a caldo alla luce di questa prima tranche di indagini? Per cui comincio a pensare di non andare più allo stadio. Lei è in qualità di parte offesa? Io mi sono costituito come parte offesa, perciò sono venuto qua, perché siccome non ho voluto penetrare il segreto istruttorio, volevo proprio sapere dalla parola, dalla voce del procuratore che cosa è avvenuto, che cosa può avvenire. Queste le dichiarazioni dell'Avvocato Aurelio Gironda. 080-501-998, Roberto, tu che sei uno che si informa molto, cerca di capire, secondo te che rischio corre il Bari? È chiaro che bisognerebbe essere esperti di diritto sportivo, di giustizia sportiva per capirlo, ma che cosa avverti? Io avverto un pericolo, la penalizzazione nel campionato prossimo. La cosa peggiore che ci possa capitare, perché già questo campionato è noioso, è poco animato, anche se i ragazzi poi alla fine sono una nota lieta di quest'anno, bene o male si impegnano, giocano, una serie di problematiche, ma comunque stanno dando ottimi risultati. Quindi immagino che questo può essere il pericolo più grosso, preferirei una penalizzazione quest'anno, anche a rischio di una retrocessione, piuttosto che vivere un altro campionato tipo quello di quest'anno, senza speranze, è abbastanza noioso. Io penso che sarà molto più pesante la situazione, perché la responsabilità oggettiva esiste e adesso non è che la proposta di legge facciamo in tempo a utilizzarla, perché Gironda ha detto anche altro, ha parlato di una proposta di legge. È una pesante responsabilità oggettiva, sono tante le partite. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Fabrizio da Bari, saluto all'ospite. Enzo, no, vabbè, facevo giusto una riflessione oggi praticamente con mia moglie, sul fatto che Bari, a quanto pare, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come città negli ultimi tempi sta salendo all'onore della cronaca, ma per tante cose. Una cosa che sinceramente non sapevo proprio, io l'ho vista proprio stamattina su internet, e penso che tu lo conoscerai benissimo, io non sapevo di Fabio Giacobbe, che tra l'altro appunto, se non ricordo male, ha lavorato anche per Telebari o Radio Bari, non ricordo bene. Volevo giusto sapere… Ha avuto un'esperienza anche con noi alla radio, insomma. Ecco, volevo appunto giusto un tuo pensiero, insomma, su Fabio. Che dirti, che dirti, guarda, io sul piano umano Fabio lo considero, lo considero, perché fino a prova contraria, un bravo ragazzo obiettivamente, a me era molto simpatico, un ragazzo pieno di vitalità, pieno di… Poi, francamente, come dire, anche Andrea Masiello lo consideravo una bandiera del Bari, gli dicevo, gli resterà la fascia di capitano per tutta la vita, ero persino preoccupato per lui, perché dicevo, ma perché Ranocchi e Bonucci, ma perché sembrano più giovani, in fin dei conti Masiello ha solo pochi capelli e sembra più anziano, però per me Andrea Masiello, quando giocava al calcio sul serio, non aveva niente da invidiare a Bonucci e Ranocchia, era uno capace di interpretare due ruoli, terzino e stopper, era uno che sapeva calciare con il piede, aveva un gran piede, non dimentichiamo che le azioni del Bari di Conte partivano sempre con… Lui e Gillet. Lui e Gillet, quindi capisci che… Io dico questo, veramente lui ha fatto un autogol a se stesso, perché ha bruciato una carriera fantastica, un padre di famiglia, una bambina piccola, credo, sposato da poco, io non oso immaginare cosa stia passando in questo momento dalla testa di Andrea Masiello e delle persone che lo circondano. Poi ripeto, sul fatto di Fabio, spero davvero che ne venga fuori indenne e pulito, perché comunque è una persona che conosco sul piano personale, sapevo anche della sua amicizia con Andrea Masiello, ma francamente non avrei mai pensato… Questo è proprio il segnale della improvvisazione, cioè anche nel malaffare la città è scadente, cioè improvvisa, si affida a personaggi di basso livello, con scarsa cultura, con scarsa protezione, che fanno delle mosse avventate, cioè questa città fa davvero ridere l'Italia, su questo non possiamo non ammetterlo, cioè qui si tratta che i primi due, che sono amici di un calciatore che è a Bari da due anni, vendono la propria città, la propria squadra, e in questo caso città, perché una città come la nostra, il calcio è una valenza assuta, vanno avanti, vanno indietro, cercano, fanno… Io poi ripeto, non condanno mai nessuno, ci saranno tutti i gradi, ci mancherebbe altro, mi auguro di sbagliarmi sempre, ma con una semplicità, una disinvoltura che… Non lo so, io posso capire l'associazione malavitosa, il clan che è organizzato e strutturato per fare queste cose, diciamo è un mestiere, il legale è un mestiere, qui c'è l'improvvisazione più totale, e significa che siamo venendo alla mercedi, chi si trova si trova, insomma. Magari non pensi neanche di fare chissà che cosa, probabilmente in quel momento. Io ti dico la verità, il mio pensiero non va a Masiello, nella famiglia di Masiello, va a quelle centinaia, centinaia e centinaia di scommettitori, in particolare del Ceto Basso, che per la loro sfortuna di essere caduti vittima di una malattia, che è quella del gioco delle scommesse, passano le ore nei centri SNAI, piuttosto che altri centri, perdendo danari per partite che altra gente della loro stessa città aveva collaborato a vendere. A me il calciatore, non me ne frega niente, a me interessa i concittadini, quando io da ragazzino, con mio padre andavo in trasferta, e vedevo i ristoratori di Bari, penare, arrabbiarsi, avere a volte intenzioni di invadere il campo, e poi oggi invece sento che ascoltano i litigi e fan finta di niente, beh, mi fa piacere che a 47 anni ho continuato ad andare a mangiare dai papà. Va bene, io non mi preoccupavo troppo della testa di Masiello, provo a mettermi nella sua testa per capire, cioè io mi darei capocciato al muro in questo momento, fossi Masiello, ma forti proprio, eh! Sei riuscito a capire, a questo punto viene meno il... Ma forti, ma forti, ma forti. La capacità di comprendere quello che si fa, no? Stop! Pubblicità, a tra poco.